Buongiorno a tutti, sono Simone Infante, un trainer dell'Event Group. Ringrazio l'Event Group per darmi questa possibilità e ovviamente di poter partecipare ed allenarci tutti quanti insieme. Ciao ciao ciao, ciao Fabio, ciao Eli! Vi chiedo cortesemente di prendere o un pesetto da 1 o 2 kg o se non lo avete una bottiglia d'acqua da 1 litro e mezzo. Quindi vi lascio questo minuto 30 secondi per poter andare a reperire questo pesetto o questa bottiglia d'acqua da 1 litro e mezzo. Oggi andremo a svolgere un allenamento funzionale che prevede 6 minuti di riscaldamento e dopodiché faremo un circuito di mobilità funzionale che consta di 6 stazioni, le faremo a circuito appunto per 2 giri e 20 ripetizioni ad esercizio. Dopodiché andremo a svolgere questo circuito funzionale che prevede 9 stazioni e verranno svolte per 30 secondi senza sosta. Alla fine dell'intero giro faremo una pausa di un minuto facendo un recupero attivo. Chi vuole, chi è molto affaticato, farà un recupero passivo. Passivo significa fermi. Colgo l'occasione per augurarvi buona domenica. A volte il tempo in questi giorni perdiamo un po' la cognizione del tempo. Ok? E niente. Quindi mi auguro che abbiate preso questo pesetto così come lo vado a prendere io. Ecco qua. Adesso andiamo a fare il circuito e andiamo a fare il riscaldamento. Quindi mettiamo la musica, metto il tempo, vi ricordo sono 6 minuti. Ok? Quindi. Allora. Partiamo con la musica. Chi ha un cardiofrequenzimetro può far partire il cardiofrequenzimetro. Ok? Io lo sto facendo partire. Ok. Molto bene. Allora. Imposto il timer. 6 minuti ragazzi. E vai. Corsetta sul posto. Molto bene. Su. E' uno schippino leggero. Vai, vai, vai. Adesso vi ricordo che in questi 6 minuti andremo ad incrementare la difficoltà del nostro esercizio di riscaldamento. Ok? Che deve essere graduale. Cioè in 6 minuti partiamo da una frequenza cardiaca che è quella nostra basale e andremo ad incrementarla. Ok? Ancora 30 secondi. E andremo ad aggiungere sulla base di questo movimento, movimento delle braccia. Molto bene. Ancora 20 secondi. Bravissimi. Spero che l'audio si senta bene, che il video sia ok. Qualsiasi cosa scrivetemi. Ok? E ancora 5. 3, 2, 1. E vai con le braccia avanti. Slancio delle braccia avanti. Vai, su. Su, su. Su, su. Ok. E ancora, ancora. Fuori l'aria. Su, su, su. E verso l'alto con le braccia. Vai. Su. E ancora. Molto bene. Dai ragazzi. Su. Dai. 15 secondi ancora. E andiamo a cambiare l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Vai con il jumping jack. Molto bene. Come va? Sentite che la frequenza caldiaca sta un po' aumentando? O forse riuscite a percepire meglio il vostro respiro? Che sta diventando un pochino più affannato. Bravissimi. Cerchiamo di mantenere l'appoggio del piede solo sulla parte anteriore. Ok? Quindi quando andate a divaricare e a richiudere le gambe, appoggia solo la parte anteriore del piede. Stallone staccato. Gamba leggermente piegata. Dai, dai, dai. Ancora 15 secondi. 10 5, 4, 3, 2, 1. Di nuovo. Skip. Su, su, su le ginocchia. Wow. La mia frequenza cardiaca sta salendo. Così dovrebbe salire anche la vostra. Forza. Su le ginocchia. Su le ginocchia. Su, su. Ancora 30 secondi. Dai, dai, dai. Siamo al terzo minuto di riscaldamento, ragazzi. Forza. Su, su. Su. Gambe parallele tra loro. Su, su, su. Ancora 10. Dai, dai. E 5, 4, 3, 2. Vai col jumping jack. Su. Aumentiamo la frequenza. Su. Su. Dai. Su, su. Forza, forza. Su, su, su. Non so se riuscite a sentire la musica di sottofondo. Comunque, provate a sentire la musica di sottofondo. Comunque, provate ad andare a tempo. Dai, su. Su, su, su. E sale la frequenza cardiaca. Ti respira ancora più affannato. Dai. Dai, ancora. Su, su. Su, su. Su, su. Su, su. Ancora tre di secondi. Dai. E 4, 3, 2, 1. E di nuovo con lo skip. Dai. Più veloci. Più frequenti. Su, su, su. Wow. La mia frequenza è ancora più alta. Così come da protocollo. Riscaldamento ottimale. Dai. Il riscaldamento dovrebbe partire dalla vostra frequenza cardiaca basale. E andare verso l'80, 85%. E perché no? Provare ad arrivare al 90% per i più avanzati. Dai, 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 dai. Ovviamente per chi volesse sapere come si fa a calcolare la frequenza cardiaca massima teorica basta fare 2,20 in meno l'età che è il calcolo più semplice. E quella dà la frequenza cardiaca massima teorica. Puoi fare la percentuale, moltiplicare per 0,85 e si sa quale è l'85%. Forza. Dai. Ancora 5 secondi. Uuh. Due. Uno. Yes. Grande. Allora ragazzi. Adesso andiamo a svolgere il circuito di mobilità funzionale. Ok? Ci siamo? Stavo bruciando grassi. Ovvio. Mi fermo. Il cuore rallenta. Così anche la vostra frequenza cardiaca. Ora prendiamo il pesetto che ci accompagnerà in tutti e sei gli esercizi di mobilità funzionale. Quindi. Ovviamente serve anche il tappetino. Allora. Partiamo con il primo esercizio. Il primo giro lo facciamo più lento. Quindi da qui vado su con le braccia. Ok? E il pesetto in alto tra le mani. E giù. Gamba destra avanti. E porto il pesetto sulla punta del piede destro. E cambio. Due. Cambio. Tre. Cambio. Quattro. Dai. Cinque. Vai. Sei. Sette. Otto. Nove. Ancora dieci. Dai ragazzi. Uno. Due. Tre. Quattro. Sentite come tira la gamba che andate a stendere avanti. Puntate bene il tallone a terra. E flettete il busto sulla gamba avanti. Dai. Molto bene. Adesso. Ci andiamo a mettere in ginocchio sul tappetino. Ok? Il peso è davanti al ginocchio destro. Ok? Anzi scusate. Davanti al ginocchio sinistro. Ora. Con la mano destra. Che cosa andiamo a fare? Ci mettiamo con la mano destra subito dopo il piede destro. Ok? E teniamo con la mano sinistra il peso. Da qui. Spingo con la mano destra a terra. Spingo le anche. Quindi il bacino in avanti. E vado a ruotare. Portando la mano sinistra verso la mano destra. La testa ruota guardando la mano destra. Torno giù. Cambio. Mano sinistra dietro il piede sinistro. Afferro con la mano il pesetto. Il pesetto. Con la mano destra. E guardo la mano sinistra. E torno giù. Vai. Quindi spingo il bacino avanti. E ruoto con il braccio opposto. Verso la mano d'appoggio. Dai. E. Quattro. E. Cinque. Dai. Sei. Sette. Otto. Nove. Dai. Dieci. Ancora. Uno. Forza. Due. E. Tre. E. Quattro. Vai. Cinque. Su. Su. Sei. E ancora. Sette. E ancora. Otto. Dai. Nove. Su. E dieci. Adesso. Cambio ragazzi. Adesso. Che cosa facciamo? Allora. Teniamo il pesetto con tutte e due le mani. Da qui. Ci solleviamo col sedere da talloni. Portiamo la gamba destra avanti. Ci sbilanciamo in avanti col bacino. E portiamo le mani dietro tra le scapole tenendo il pesetto. Ritorno giù a sedermi col sedere sui talloni. E cambio. Porto la gamba sinistra avanti. Sbilancio il bacino avanti. E cambio. Vai. Tre. E quattro. E cinque. E sei. E sette. E otto. E nove. Dai ancora. Dieci. Forza. E uno. Dai. Due. Dai. Tre. Stai migliorando la forma fisica. Quattro. E cinque. E sei. Dai. Sette. Otto. Nove. E dieci. Molto bene. Ora ci mettiamo in quadrupedia. Quattro zampe. Il peso lo teniamo con la mano destra. Ok? Da qui. Che faccio? Vado a ruotare il tronco portando il braccio destro verso il cielo. E guardate il peso. Stai bruciando grassi. Torno giù. E cambio. Ruoto verso il cielo col braccio sinistro. Vai. Tre. E quattro. E cinque. Sei. Forza. Sette. Dai. Otto. Il bacino cerchiamo di mantenerlo fermo, fermo. Ok? Non ruota, entriamo al tronco. Dai. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Molto bene. Adesso, ragazzi, ci mettiamo seduti. Ok? Pesetto tenuto con tutte e due le mani. Accavalliamo. La gamba destra sulla gamba sinistra. Quindi la gamba sinistra è distesa. Il peso è ruotato a destra. Ok? Quindi tengo il peso con le mani a destra. Da qui cambio le gambe e ruoto il peso a sinistra. Ok? Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Quindi, molto bene. Ora ci apprezziamo a fare l'ultimo esercizio. Qui era partito Bixby e stava andando per conto suo. Allora, ragazzi. Che cosa facciamo? L'ultimo esercizio è il seguente. Braccia verso il cielo. Ok? Il pesetto lo teniamo sulla mano destra. Andiamo ad aprire le braccia verso il pavimento. e porto la punta del piede destro verso la mano sinistra. Ritorno al centro, braccia verso il cielo. Tengo con la mano sinistra il pesetto e vado con la punta del piede sinistro verso la mano destra. Quindi stiamo incrociando, ok? Il pesetto sta sulla mano opposta al lato verso cui stiamo ruotando. Ok? Quattro, dai, cinque, forza, sei e sette. Ovviamente questi esercizi sono sì di mobilità funzionale ma se li facciamo con una certa velocità, ok? Diventano veri e propri esercizi altamente intensi da un punto di vista cardiovascolare. Ok? Dai, quattro, dai, tre, dai, due e uno. In piedi e ricominciamo l'intera sequenza per l'ultima volta. Come va ragazzi? Ci siamo? Allora, pronti? Il pesetto che teniamo con due mani da qui. Vado su con le braccia, gamba destra avanti tesa, il pesetto sulla punta del piede destro e cambio. Due e tre e quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Dai, ancora dieci. Stai migliorando la forma fisica. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Molto bene. Ci andiamo a inginocchiare, sedere sui talloni, mano sinistra che tiene il peso, mano destra dietro il piede destro, spingo il bacino in avanti, quindi stacco il sedere da talloni e ruoto con la mano sinistra verso la mano destra e cambio. Stai bruciando grassi. Due, dai, tre, su, quattro e ancora. Cinque, sei, e sette, e otto, e nove, e dieci. Dai, ancora. Uno, so, due, dai. Tre, e quattro, e tendiamo bene le anche. Cinque, quindi vuol dire spingete il bacino il più avanti possibile. Sette, e otto, e nove, dai. Terzo esercizio, ragazzi. Teniamo il pesetto tra le mani. Andiamo col sedere sui talloni. Da qui facciamo un affondo avanti con la gamba a destra e il pesetto tra le scapole. E cambio. Due, e tre, e quattro, e cinque, e sei. Sette, e otto, e nove, e ancora. Dieci, forza. Uno, tre, due, dai. Tre, e quattro, e cinque, sei, sette, otto, e nove. Dieci, cambio, quadrupedia, pesetto sotto la mano destra, ruoto con la parte alta del tronco, portando il braccio destro verso l'alto, e viceversa. Via. Uno, la mano che sta a terra, spinge contro il pavimento. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Dai, ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Cambio. Allora ragazzi, seduti. Gamba destra accavallata sulla gamba sinistra, pesetto tra le mani, che è ruotata a destra. Gamba sinistra distesa. Scambio l'accavallamento e ruoto il peso a sinistra. Vai. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E andiamo a fare l'ultimo esercizio. Quindi, schiena a terra, braccia verso il cielo. Il pesetto è sulla mano destra, ma apriamo le braccia a terra. E il piede destro, ruota verso il braccio sinistro. E cambio. Due. E cambio. Tre. Dai. Quattro. Forza. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Dai ancora. Uno. Due. Tre. Giù il braccio col pesetto. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Molto bene, ragazzi. Allora. Adesso. Come procede? Ah. È tosta, eh? Qualcuno lo vedo che ha abbandonato. Ah. Maledetti. Scherzo. Adesso andiamo a fare nove stazioni. Ok? Quattro giri. Senza sosta tra una stazione e l'altra. Quindi giusto il primo giro per spiegarvi bene gli esercizi. Dopodiché dal secondo in poi andremo solo a fare una sosta alla fine dei nove esercizi. Ok? Allora sappiate che il penultimo esercizio è una corsa su quello che avete a disposizione a forma di T. Quindi correremo avanti, andremo a destra, torneremo al centro, andremo a sinistra, torneremo al centro e ritorneremo indietro. Ok? Si chiama T-drill. Questo è il penultimo esercizio, l'ottavo. Intanto partiamo dal primo esercizio che si fa in appoggio monopodalico. Vi ricordo che lo schermo inverte, quindi quando io dico destra voi vedrete sinistra. Comunque voi tenetelo sulla mano destra. Adesso, dunque, andiamo a fare il primo esercizio che è questo. Allora, pesetto che teniamo sulla mano destra. E andiamo a disegnare un cerchio completo, muovendoci velocemente. Chiaro? Pronti? 3, 2, 1, via! 1, dai! Su! Su! Forza! Dai! Più il movimento delle braccia è veloce e più diventa destabilizzante. Ok? La gamba sinistra ovviamente è sollevata da terra. Mi raccomando. Su! 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 Forza! Su! Dai, dai! Ancora! Su! Ok, ragazzi. Adesso, il secondo esercizio è il seguente. Sempre in appoggio monopodalico, ok? Pesetto sulla mano destra. Apro le braccia rapidamente e ritorno al centro, ok? Senza perdere l'equilibrio. 3, 2, 1, via! Su! Mi raccomando, manteniamo l'equilibrio. Su! Su! Per diventare più instabile questo esercizio. Mantenete il braccio senza peso, dritto davanti al vostro petto. Evita compensazioni per quanto riguarda il tronco e quindi diventa più difficile. Ancora 7 secondi. Dai, ragazzi. 2, 1, cambio. Adesso il terzo esercizio è il seguente. Con il pesetto tra le mani, sempre in appoggio monopodalico destro. Andiamo a distendere rapidamente le braccia a destra, al centro e a sinistra, ok? 3, 2, 1, via ragazzi. Su! 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 Forza! Dai, dai, dai! Su! Molto bene! Sentite, più andate veloci con le braccia e più state per perdere l'equilibrio. Ed è proprio quello che desideriamo perché i nostri muscoli stabilizzatori devono entrare in funzione. Ok, dai, dai, dai! Ok, ragazzi. Adesso andiamo a fare il quarto esercizio che è semplicemente un affondo dietro, quindi parto con la gamba sinistra che va dietro e ruoto il tronco, pardon, e ruoto il tronco verso la gamba che sta andando dietro, ok? Alternando destra e sinistra. Via! E 1, e 2. E 3, dai, 4, e 5, 6, vi metto di profilo così magari guardate meglio. 7, 8, 9, 10, dai ancora! Stai migliorando la forma fisica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok ragazzi. Ora, il quinto esercizio è un diagonal America Swing. Che cosa vuol dire? Col pesetto facciamo uno squat e ruotiamo col tronco in diagonale. Quindi vado verso sinistra, estendo rapidamente le anche portando il peso dietro le scapole e poi vado a destra. Ok? Stai bruciando grassi. Pronti? E via ragazzi! Giù! Su! Forza! Su! Spingo forte le anche in avanti. Su! Su, su! Dai! Ancora 10 secondi. Su! 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 Stai migliorando la forma fisica. Ok! Molto bene! Il terzo esercizio è il seguente. E facciamo dei... Siamo in appoggio monopodalico sinistro e facciamo un salto laverale e andiamo in appoggio monopodalico destro. Nel mentre salto spingo le braccia avanti. Ok? Su! Su! Chiaro? Dai ragazzi! Via! E su! 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 Dai dai dai! Ancora! Molto bene! Su! 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 Ancora 5 secondi. Ah! Ah! Ok ragazzi! Ora dobbiamo andare a fare il settimo esercizio che è un bar piece. Quando vado giù lascio il peso a terra, vado giù, prendo il pesetto e spingo su. Ok? Quindi via, vado giù, prendo il pesetto, distendo, dai giù, prendo il pesetto, distendo e giù, pesetto, su dai, giù, pesetto. Ancora 12 secondi, dai, su, dai, su, dai, su, dai, 3, 2, 1, ok. Adesso ragazzi, quello che vi dicevo, la corsetta. Quindi, sposto il mio tappetino e se no potrei inciamparci e da qui facciamo questo. Partiamo, andiamo avanti, ci spostiamo sulla destra, ci spostiamo sulla sinistra, ritorno al centro e marcio il dietro. Sempre col pesetto in mano. Via ragazzi! Dai, corsa avanti. Vado a destra, tendo le braccia avanti. Sinistra, tendo, torno indietro e riparto. Stavolta la parte a sinistra. Dai, destra, vai, centro, torno indietro, riparto. Destra, sinistra, torno al centro, marcio indietro, riparto. Sinistra, destra, torno al centro, marcio indietro. E ultimo esercizio. Siamo pronti? Quindi, adesso andiamo a fare semplicemente delle spinte del pesetto verso l'alto. Quindi lo stacco proprio, lo lancio. Aspetto che ritorna e ritorno giù in squat. Via! Dai ragazzi! Su! Perché il primo giro è finito, dai! Su! Su! Ricordo che la spinta alle braccia e quindi al pesetto ti la danno le gambe. Rapida distensione delle gambe. Anche ben estese. Forte attivazione del gluteo. E dai! Su, su, su! 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 Io sto diventando cieco! Ok! Allora ragazzi, recupero un minuto. Come va? Molto bene! È abbastanza impegnativo. Adesso abbiamo altri tre giri. Ok? Ricominciamo stavolta con gli esercizi in appoggio monopodalico, quindi su un piede. E sarà il piede sinistro a stare a terra, mentre il piede destro sarà sollevato. Quindi il peso parte sulla mano sinistra. Vi informo che in 27 minuti che sono trascorsi dall'inizio della lezione, io ho consumato 345 calorie. Ok? Quindi vuol dire che da un punto di vista cardiovascolare, questo tipo di allenamento è molto valido. Soprattutto adesso che le ristrettezze, per quanto riguarda i regolamenti, insomma, dobbiamo rimanere a casa. Ok? Quindi equivale, grosso modo, a una corsetta. Ok? Quindi, dai ragazzi, ce la possiamo fare. Allora, fra dieci secondi ricominciamo. Ok? Quindi, cinque, tre, due, uno, e si parte. Vai con il giro tondo. So. Molto bene. Mi ricordo sempre che lo schermo inverte, la fotocamera inverte la posizione. Quindi, quando io dico sinistra, voi vedete la mia mano destra, è tutto girato. Ma non importa, ascoltatemi come fossi una radio, ok? Dieci secondi ancora, ragazzi. E si va al secondo esercizio. Con le braccia parallele al pavimento, il peso sulla mano sinistra. E andiamo a fare le aperture. Ok? A croce. Pronti? Tre, due, uno. E vai. Per chi volesse fare l'esercizio più intenso, il braccio senza peso, fermo davanti al petto. All'altezza della spalla. Gli addominali devono essere molto attivi, altrimenti perdiamo facilmente l'equilibrio, ok? Quindi l'ombelico attaccato alla nuca, alla colonna. Stai migliorando la forma fisica. Dai, dai. Ancora sei secondi. Su, su. Molto bene. Adesso andiamo a fare il terzo esercizio. Pesetto contro le due mani e spingiamo. Avanti, sinistra, avanti, destra. Dai. Su, su, su. Forza. Più rapido mi muovo, più diventate stabilizzante e più, quindi, l'intensità dell'esercizio è alta. Dai. Stai bruciando. Siamo noi che decidiamo l'intensità. Quanto vogliamo faticare, ragazzi. Su. Dai. Molto bene. Continuiamo. Ancora il timer non è suonato. Su. Ok. Molto bene. Adesso andiamo a fare gli affondi. Stavolta andiamo a fare l'affondo che con la gamba destra dietro e poi il sinistro. Destra dietro, ruota a destra. Sinistro dietro, ruota a sinistra. Stai migliorando la forma fisica. Dai. Dai. Vi ricordo che per chi ha la possibilità di esporsi al sole, tipo mettersi in balcone, in terrazzo, è fondamentale. fare un po' di attività fisica al sole, ok? Dai, 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 dai. Cambio. Molto bene. Adesso andiamo a fare... Aiuto. Diagono all'America Swing. Via. Su. 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 Dai nel sedere dietro, eh. Su. Trucco che ruota. Mentre le gambe si plettono, si piegano. Dai. Su. Dai ancora. Cinque secondi. Su. Uh. Su. Ok. Adesso, da destra a sinistra, salto monopodalico laterale. Dai. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Dai ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Dai ancora quattro secondi. Uh. E poi andiamo a fare barbe. Ok. Pronti? Via. Giù. Su. Dai. Giù. Su. Dai. Giù. Su. Uh. Dai. Dai, 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 dai. Ancora dieci secondi, ragazzi. Mamma mia. Che fatica. Ok. Ragazzi, la corsa a T. Pronti? Tre, due, uno. Via. Avanzo. Sinistra. Destra. Centro. Torno indietro. Ribatto. Destra. Sinistra. Centro. Torno indietro. Ribatto. Sinistra. Destra. Centro. Torno indietro. Ribatto. Vini. Destra. Sinistra. Torno al centro. Dai, dietro. Ribatto. sinistra destra centro e adesso lancio il peso su via su su è bello faticare insieme a voi ragazzi molto molto bello su su dai che a breve abbiamo il secondo recupero tanto desiderato e poi ancora due giri e poi fine possiamo dedicarci al pranzo alla doccia recupero ragazzi come procede? tutto ok? abbiamo un minuto eh io sono arrivato a 430 calorie in 33 minuti grande molto 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 bene il tempo qua è tiranno scorre velocemente inesorabilmente 30 secondi e si riparte 30 secondi si riparte ragazzi ripartiamo col peso sulla mano destra piede d'appoggio e il destro ok? quindi la gamba sinistra è sollevata e giro intorno al bacino bellissimo dai 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 rimanete non scappate vi vedo che fate la fuga 10 secondi 5 4 3 2 1 e si riparte via terzo giro ragazzi forza e siamo alla abbiamo superato la metà eh anzi siamo quasi alla fine su 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 bravissimi dai 10 secondi sì sì molto bene e cambio nella croce mano pesetto pesetto sulla mano destra su l'altro braccio dritto davanti al petto gli le energie sono quasi in esaurimento sento i muscoli molto più affaticati bene buon segno dai dai 10 secondi su 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 forza stai migliorando la forma fisica 4 3 2 1 ok e spinta del pesetto avanti destra centro sinistra centro destra dai su su forza forza su 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 dai 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 ancora forza 5 secondi e poi andiamo a fare affondo dietro e parte la gamba sinistra indietro via 1 c'è il sudore dappertutto brucia negli occhi più il sole che macega a posto dai su 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 dai ragazzi non molliamo le spalle sentite anche con pesetto leggero sono stanche molto bene da qui andiamo a fare i e diagonal america swing via pronti su dai su 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 15 secondi ancora vai su 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 dai dai 4 3 2 1 e salti da destra a sinistra e da sinistra a destra via su 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 e ancora su 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 piego la gamba una volta che ho saltato mi appoggio piego e stendo piego e stendo forza dai che sto a 500 calorie quasi anche voi considerate che come me state bruciando anche voi cambio bar peace via e chi la fa più forza dai 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 10 secondi ancora 5 le gambe sono inchiatate a terra ragazzi la corsa a T pronti 3 2 1 via avanti sinistra destra centro e riparto destra sinistra centro e riparto vai avanti sinistra destra centro riparto avanti destra sinistra centro riparto su avanti sinistra destra e lancio il peso via su 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 dai ragazzi che ci manca solo un giro alla fine e abbiamo finito bruciano le gambe su forza su su non me lo do in faccia sto pesetto dai su 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 ok ragazzi mancano gli ultimi 10 secondi che ho preso la pausa chi sta andando a pranzo eravate in esercito piano piano vi state spegnendo tornate sui vostri posti dai 3.89 niente qui siamo proprio in italia l'ora di pranzo in combe è meglio un piatto de spaghetti aioio scusate le cavolate ma ci vuole molto bene bravi ragazzi 30 secondi e andiamo a fare l'ultimo giro vi ricordo che siamo in appoggio monopodalico sinistro quindi piede sinistra a terra pesetto sulla mano sinistra ok e andiamo a fare il giro tondo wow sto riprendendo fiato insieme a voi 10 secondi 7 6 ritorniamo al posto pronti 3 2 1 e via vai mano sinistra su dai ragazzi bravissimi mi vedo sa pure che sto a casa bravi bravi molto bene dai dai e cambio andiamo a fare la croce pesetto sulla mano sinistra vai apro su sempre gamba sinistra d'appoggio la testa è sollevata dai su su forza molto bene dai su 10 secondi ancora dai 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 4 3 2 stai migliorando la forma fisica cambio spitta del pesetto avanti sinistra avanti destra dai su dai 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 che mancano solo 6 esercizi dopo questo vuol dire 3 minuti 3 minuti al termine ragazzi non sono niente resistiamo stringiamo i denti su su vai 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 4 3 2 1 ah adesso affondo dietro la gamba che va dietro è la destra e ruota a destra 1 e cambio 2 3 4 5 6 il ginocchio dietro sfiora il pavimento eh non vi appoggiate non vi appoggiate dai ah guarda guarda forza e 2 ah via con l'america swing ragazzi via forza destra su sinistra su dai su 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 dai dai ancora ok ragazzi salto da destra a sinistra pesetto in mano via ah ah vai su 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 ah forza forza dai 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 ancora 6 secondi 3 2 1 barpees fottutissimi barpees giù maledetti forza forza ancora 15 secondi ah lo so che non sono belli ma efficaci 5 secondi corsa a t ragazzi via si parte sinistra destra centro marcia indietro avanti destra sinistra centro marcia indietro avanti destra sinistra centro marcia indietro avanti sinistra destra centro marcia indietro avanti destra sinistra e lancio il peso dai l'ultimo esercizio e abbiamo finito su ah dai 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 ah su 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 dai forza vogliamo non molliamo ah su ok ragazzi ah allora è stato innanzitutto un immenso piacere sono sfinito ok allora vorrei cogliere l'occasione per salutare innanzitutto tutti i clienti dell'event e chi ha avuto il piacere di accedere adesso a questo profilo dell'event group poi vorrei abbracciare a distanza ma con profondo affetto tutte le persone che ho avuto modo di conoscere negli anni in cui ho lavorato all'event 2 all'event 3 purtroppo gli altri even non non sono mai stato però ho ricordi molto belli e persone che porto nel mio cuore e ovviamente non manchiamo di salutare tutti i clienti e allievi dell'event villa borghese ora con me ci rivedremo sul profilo dell'event group mercoledì alle 11 per una lezione di pilates se non sbaglio comunque poi leggerete il palinzesto vi abbraccio forte vi auguro un buon proseguimento di giornata teniamo duro ragazzi perché è un momento particolare ma sicuramente ci segnerà profondamente l'anima e saremo ancora più forti e più resistenti di prima ok detto ciò di nuovo un saluto a tutti quanti io resto a casa mi alleno da casa potete seguirmi anche dal mio profilo un abbraccio ciao a tutti